Oliver di nuovo si è arrivata da dormire chi? ah, Pacific Rim eh, eh fatta anche il gioco Sony c'è anche la presentazione cosa ci presenta di nuovo? di bello la Sony ma... la versione delle studio emorre Evolution Studios Isola nata dal fuoco assicurato scolpi degli elementi voluta da natura e abbandonata dall'uomo assicurato assicurato il luogo è stato scelto la terra si prepara eeeh è stato scelto benvenuto a Motorola che è stato scelto che è stato scelto che è stato scelto il fatti che le gare aspetta ah 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 festival direttimento eeeh ciao festival eeeh Questa è di attivamento? Non ho capito, schermo Valdiviso Allora, schermo Valdiviso Attivo attivi standard e rimpinature Valdiviso Valdiviso Non è vero spingere i tuoi riflessi al limite e quale è il tasto turbo ah non si dovrebbe usare la scadere il motore ma vale il culo non si dovrebbe usare la scadere il motore ma non si dovrebbe usare la scadere il motore ma non si dovrebbe usare la scadere il motore ma non si dovrebbe usare la scadere il motore ma si dovrebbe usare la scadere il motore ma il si è il riuscito? non è lui? non è lui? non è lui? non è lui? a da da Sì, 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 sì. no, 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 no no, no, no 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 guarda perché qua è bello che si va più sbagliato si va bene 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 no 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 si va bene si va bene si va bene il leone rende questo lo rende magari l'ostacolo su questo che ha detto no 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 non si va bene si va bene si va bene veder tanto vediamo basta beh se sono segundi ok allora e questo se ci vorrà che ci viene si va bene ci viene dove si qua che bravo un po' spettura vabbè no, non ha merito che stai hanno bispozzi di lette oh è bello questo gioco carini ti piace un grande gioco vero? eh sì ecco è un po' che mi piace è un po' un po' un po' Quattro Ah ma non è un torneo, ah metto un altro gioco di mezzo, andiamo, ti è piaciuto questo? Vabbè, vabbè fa la serata race, noi la cambiamo un attimo il gioco, ti ho messo i titoli, cambiamo un attimo il gioco, si è, perché non si è da più niente? Cosa stai facendo? Stiamo cambiando il gioco, stai cambiando il disco? Eh, disco di Platini, che disco mette adesso? Ah, bleh, bleh? No, oasis, mamma, dopo questo andiamo a dormire veramente, questa parte della ragazza, allora? Eh, bleh, bleh, esce il disco. Ah, che bel rumore che fa questo disco. È veloce a caricare. Eh, è veloce. Un lettore blu è incredibile. Settecento e venti hertz. Eh sì. Scura, eh, ecceci visio. Ah, crash. Certo, crash. Trovato. Bizzarre. Spegne, eh. Pele tasto power. Che cazzo disimola noi? Pele tasto power? Pele altta F4. Taricamente contenuti in corsa. Pele altta F4. Nelle puntate precedenti di Blood. addirittura ha detto aveva cominciato a vincere c'è l'abbiamo completato il giorno per scendere ci siamo quasi abbiamo sbloccato la modalità giocatore simboli giocatore un'altra volta c'è uno schermo con chi si sa ha dietro in quattro sono giocatore 2 e in chi partì dalla scala caro come lezzamente ci fascia motori tale estreme otto il mondiale no ma ti è proprio determinato e deciso stasera fai rando forse senza potenziamenti no no fai forse come potenziare di gioco a casa tormo di arco da volerlo quattro giri sceglierà l'auto rogato chiaro più grande però però c'è stata tenuta bene e super vanno questo c'è un'accelerazione migliore delle altre hypergtsr 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 Guarda questa! Cazzea! Segui i possibitori, ho pensato per ottenere più bambini. E poi c'è una possibilità. Ma venne! Cosa è fino! Attacare avanti, per quanto riguarda il bonus. Irrò al incubo, per quanto riguarda. Ah! Un po' di nuovo! Cazzo! Alla stai trovando una vecchiazza! Un po' di nuovo! 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 Che sono poor! Un po' di nuovo! oi 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 come faccio a sapere che tipo di armamento ho fatto? oi 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 o 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 12 anni pare che non si è mercato neanche di un giorno chiedi apperano e da bis o vabbè penso che era il momento di salutare ho fatto una certa sì sì è fatto una e 26 si andava al lavoro aspetta che sia proprio tutto con questo alla prossima uscita è come da gioco finale è sì solo finale che ti è piaciuto addirittura la cifre ah questa c'è anche una presentazione guarda che è un super guarda che è un super guarda che è un super guarda come vedo si hai gli occhiali tipo laomer che emozionante proprio guarda la sigla guarda va che presentazione tutto questo è il player vabbè detto che con questo possiamo veramente chiederlo buonanotte buonanotte goodnight